Benissimo, lori! con ogni piattaforma possibile e dopo io lo chiedi, va bene so vai fulce come è? le mani su, le mani su, le mani su, le mani su ah raga, sono venuto qui in superattiva io voglio sentire 看 artificiale non lo so non lo so no volentieri hai 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 maends maggi maessa maessa che bello Grazie 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 Allora Io non potete capire Ai Non potete capire Che è successo Platicamente Per la nostra separata E ora Tengo la separata di Di Maruti Sov'è Mi voglio far leggere la mano Guarda Leggero la mano Non mi posso farlo Ah no Ok Allora Poi tanto Questi che sono Sono le cose rosse Raga Voli Vero Poi Vero Vero Fimelle Vero 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 non è la mezza le persone non possono fare niente è spargo è la mezza non è la mezza non è quello un minuto ma non è che cavoli dai vorrei toccare qualcosa vorrei mi sono già aiuto io voglio andare a mettere questa cottanina però voglio rimanere così qua perché ora non ne stiamo qua dentro un po siamo in una cena belle le chiesi oddio io non è la mia cottiera perché è difficile sicuramente questa cottanina è un po' guardale 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 Are you the best guardate andate guardale guarda guardale guardale a me lo vado a llevar a loro no, io mi fanno come la spedetta a qui va non è nementino no, ma andiamo Grazie a tutti. Guardate, i brutti bambini La mia pezziata La mia pezziata Molto fashion Mi piaci che beve E poi non cazzo, ho scritto Sato Poverissimo Ciao ragazzi Grazie Grazie per avermi dato l'idea Di fare un video di morning Quello che è E ho fatto appena Spendenti Ciao Beh Mi dispiace se siete venuti qua Io non sono proprio da venire Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace A testare Niente Adesso Ascolta sto mandino Mi dispiace le mani In te la immode C'è pure un botto Perug 리 a distare i miei capelli